buongiorno buongiorno buon giovedì buon giovedì primo aprile e benvenuti benvenuti a mattino insieme e non dimentichiamolo oggi è il giovedì santo quindi ci stiamo avvicinando a grandi passi al giorno di pasqua il giorno di pasqua che è sempre più vicino ma qual è il significato proprio di questa giornata così particolare cioè del giovedì santo io giro immediatamente questa domanda a diego andreatta che è il direttore di vita trentina che è nostro ospite come tutti i giovedì mattina buongiorno diego innanzitutto buongiorno marco ti rispondo da un povero cristiano più che da liturgista o da biblista ma certamente oggi si apre il triduo pasquale entriamo in questi tre giorni più importanti dell'anno liturgico in un clima di racconnimento e anche di riflessione di meditazione in cui i cristiani in tutto il mondo ripercorrono le vicende vangelo alla mano della passione morte e risurrezione di gesù in particolare oggi è il giorno dell'ultima cena il giorno della lavanda dei piedi gesto di carità e il giorno in cui per la chiesa è stata istituita l'eucarestia il sacramento dell'eucarestia e sono due momenti liturgici la messa in cena domini che vivremo questa sera e solitamente c'è al mattino anche la messa del crisma in cui vengono benedetti gli oli che poi vengono usati durante l'anno per i problemi della pandemia questa messa che vedeva convergere da tutta la diocesi i sacerdoti viene invece rinviata come già lo scorso anno perché giovedì santo è anche la festa dei preti perché nell'ultima cena si ricorda anche l'istituzione del sacerdozio quindi possiamo oggi fare gli auguri ai nostri parroci ai nostri sacerdoti in questa giornata tanto importante anche per loro e questa purtroppo sarà un'altra pasqua con molte limitazioni anche proprio nei riti pasquali no diego sì certo è doveroso prioritario insomma rispetto delle misure eppure pare che appunto questa pur con queste restrizioni a cui per certi aspetti le comunità si sono un po abituate hanno preso le misure sia possibile mantenere pieno vivo tutto il senso e il richiamo che la parola di dio ci offre in questi giorni ecco vorrei anche ricordare qui entriamo così nelle nostre pagine prima parlando di sacerdoti tanti che se ne sono andati a causa del covid e li ricordano anche due preti trentini che abbiamo intervistato perché dal covid sono appena usciti don lino zatelli parroco in san carlo qui alla clarina di trento e don luigi mezzi parroco sull'altopiano di brentonico quasi un mese di più in in ospedale per loro e abbiamo raccolto l'esperienza che hanno fatto un'esperienza che è un'esperienza di condivisione anche con i compagni di stanza di simpatia di sofferenza insieme vicina anche a quanto ci ha detto domenica il suo ritorno in cattedrale l'arcivescovo lauro e di questo poi tra l'altro ti occupi ma torneremo dopo ad occuparci del vescovo lauro torniamo direi alla prima pagina perché non abbiamo ancora mostrata di vita trentina abbiamo mostrato per la verità in anteprima in rassegna stampa stamattina eccola qui voi avete titolato la pasqua dei diritti con riferimento eccolo lì proprio al caso della sicor questa azienda roverettana come mai avete scelto proprio di mettere questo in apertura di questo numero pasquale sì ci sembrava giusto stare vicini alla realtà del mondo del lavoro che forse abbiamo un po' dimenticato in questi mesi dove spesso le difficoltà occupazionali produttive si sono poi sovrapposte a quelle della pandemia e questa di roveretto è una vicenda anche paradossale in quanto questa azienda ha un bilancio positivo un fatturato solido però è arrivata davanti al giudice per comportamento antisindacale ha disdetto un modo unilaterale secondo i sindacati un contratto di lavoro e molti dei dipendenti si sono ritrovati con una importante decurtazione nello stipendio vi ringrazio qui delle vostre puntuali immagini anche noi li abbiamo incontrati con augusto goio che in questa pagina racconta anche la storia recente della sicor di roveretto una vicenda appunto che segna un passo indietro rispetto alla storia delle relazioni sindacali anche industriali in trentino non a caso esce in campo anche confindustria trento per fare luce appunto su questa vicenda che comunque come osserviamo anche nel sommario della copertina del nostro giornale ha registrato anche una positiva solidarietà dalle altre aziende della zona industriale con molti dipendenti che hanno fatto rete hanno dimostrato la loro vicinanza ai colleghi metalmeccanici della sicor che ricorda un'azienda che produce motori per ascensori dicevo prima che saremo ritornati ad occuparci e saremo ritornati a parlare di monsignor tisi lo sappiamo che proprio domenica è ritornato alla sua attività la sua attività possiamo dire di tutti i giorni lo sappiamo è stato malato di covi anche io l'ho incontrato proprio domenica al suo ritorno e anche tu diego te ne occupi nel tuo editoriale nel tuo editoriale scrivi l'umanità del risorto l'idea fissa di don lauro no sì perché c'è un anniversario il 3 aprile cioè sabato sabato santo sono già cinque anni da quel giorno del 2016 in cui appunto dopo essere stato nominato monsignor tisi fece ingresso in duomo era una domenica in albis una domenica anche quella in tempo pasquale e quindi è un po l'occasione per riprendere alcuni gesti alcune azioni di questi primi cinque anni alcune scelte che ho ricondotto attorno a questa idea principale dominante cioè del raccontare dio attraverso l'umanità di gesù di nazareth il falegname di nazareth come spesso lo chiama ma ho cercato di mettere in evidenza anche che cosa questo abbia significato anche sulla comunità trentina nei rapporti con le autorità civili e soprattutto attorno a quell'attenzione ai poveri che è uno dei cardini di questo episcopato insieme alla centralità dell'eucarestia e al valore all'ascolto della parola di dio nelle pagine interne così ritorniamo all'interno del settimanale diocesano che ricordiamo è in edicola da questa mattina parlate delle cure domiciliari nelle case dei pazienti se non sbaglio è proprio il titolo sì abbiamo voluto completare un po la panoramica che abbiamo dato in questi mesi rispetto alle risposte che la sanità trentina ha dato non avevamo ancora parlato di questa realtà dell'unità di cure domiciliari palliative che è molto importante perché tanti pazienti con sintomi lievi hanno potuto evitare anche il ricorso all'ospedale proprio grazie a questa task force a questo gruppo di infermieri e anche di medici che organizzati dall'azienda sanitaria hanno garantito un contatto un monitoraggio costante delle varie situazioni e anche una visita di medici ecco è una realtà che dà fiducia che dà sicurezza anche io personalmente ne ho goduto e ci sembrava opportuno quindi non ricordare soltanto chi si trova nelle corsie ma chi porta anche sul territorio questo aiuto a chi si trova a fare i conti con le incertezze i dubbi e le ansie del covid è iniziata domenica la settimana santa con la domenica delle palme dicevamo con il ritorno di don lauro ecco qual è stato il messaggio che ha lanciato don lauro domenica nella domenica delle palme il messaggio è stato proprio quello di vivere queste giornate nell'ascolto ma anche con la dimensione della meraviglia dello stupore ecco in questo anche in sintonia anche questa volta con papa francesco che pure ha tenuto una sua riflessione su questo tema cioè la capacità di cogliere ogni anno nella vicenda del Cristo quanto è straordinario quanto dà fiducia quanto può cambiare la nostra vita con la sua promessa appunto di risurrezione di vittoria sulla morte tornando alla prima pagina Pier Giorgio Franceschini si occupa di una vicenda insomma che ha tenuto banco purtroppo negli ultimi tre mesi il titolo che proponete è una voce dal fiume potremmo mai perdonare e ci si riferisce a quel grave fatto avvenuto ai primi di gennaio in alto adige sì in questo editoriale Pier Giorgio Franceschini immagina un dialogo fra i genitori di Benno Neumeyer e il figlio che ha confessato appunto di averli uccisi è un dialogo molto toccante perché va alla radice sia del rapporto figlio padre figlio madre ma anche all'assurdo di questa vicenda in cui appunto chi ha dato la vita si trova poi a perderla è una vicenda che pone anche il dubbio l'interrogativo radicale insondabile del perdono a Roveretto si coltiva l'inclusione e andiamo così nella cronaca dalle valli ci puoi spiegare qualcosa di più? sì nell'ambito della rivoluzione insomma di quell'area strategica anche nella storia della città della Quercia che è la manifattura si è realizzato in un terreno incolto un progetto inclusivo con degli orti che sono stati fidati ad una cooperativa e quindi è bello pensare che là dove si fa ricerca e innovazione ci sia insieme uno spazio verde che pure fa dell'innovazione sociale e ci è sembrato utile dedicare l'apertura della pagina roveretana a questa realtà seguita da vicino da Trentino Sviluppo il filo conduttore di tutto il numero chiaramente di questa settimana è la Pasqua c'è qualcos'altro che ci vuoi segnalare perché ci sono pagine veramente molto interessanti devo dire come sempre su Vita Trentino ha molti spunti molto interessanti ma in particolare proprio sulla Pasqua 2021? sì direi tre aspetti gli artisti trentini che sono associati nel Luccai ci hanno donato un'opera sul tema della luce della parola della Pasqua abbiamo poi un viaggio dentro la poesia curato dalla nostra collaboratrice firma esperta poetessa anche la Nadia Scappini e poi la Pasqua dei Bambini perché la nostra collaboratrice Monica Signorati ci racconta l'esperienza della parrocchia di Povo dove da due anni c'è un bambino che ha fatto un po' scuola perché durante l'Omeria del Parroco commenta il Vangelo con un disegno che poi viene valorizzato in assemblea al momento dell'offertorio ci è sembrata una modalità interessante per far sì che i bambini diventino i nostri educatori per certi aspetti con la loro ingenuità con la loro anche riflessione e come in queste realtà si riesca anche a fare una liturgia a misura di bambino Io ti chiederei Diego se puoi fermarti ancora qualche secondo perché adesso dovremo avere un collegamento con il nuovo rettore il neo rettore dell'Università Trentina, eccolo lo siamo vedendo, Flavio De Florian il passaggio di consegne sta avvenendo, è avvenuto proprio in queste ore di fatto è il suo primo giorno da rettore dell'Università di Trento Professor De Florian buongiorno Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta e ci vede da casa Ecco, la ringraziamo per essersi ritagliato qualche minuto perché immaginiamo insomma che queste siano ore molto concitate, piene di impegni e piene di incontri, è anche emozionato? Beh, sicuramente è un giorno così simbolico, oggi si inizia veramente in questo nuovo ruolo come diceva giustamente lei ci sono molte cose da fare i primissimi giorni per mettere a punto i meccanismi, la macchina e i collaboratori quindi in questi giorni abbiamo parecchi incontri oggi comunque è il mio primo giorno ufficiale in ufficio come vedete alle mie spalle è ancora un po' spoglio perché devo ancora prendere realmente il possesso ma iniziamo da oggi Una domanda che fanno sempre i giornalisti in queste occasioni è sarà un mandato nel segno della continuità? È forse scontata come domanda ma bisogna farla? Ma diciamo questo, l'università è un'istituzione che ha una sua forza e una sua continuità che prescinde dalle persone che ne stanno al vertice Comunque gli ultimi sei anni sono stati sei anni di successi e di risultati importanti da parte del professor Collini anch'io ero parte della squadra, ero in senato accademico e quindi certamente io intendo valorizzare tutto quello che è stato fatto di buono in questi sei anni e quindi ci saranno molte cose che io vorrei continuare su quel percorso Certamente le cose cambiano, le cose evolvono e quindi saranno anche sei anni che vedranno importanti cambiamenti ma direi che più che la continuità delle persone a me sta a cuore la continuità dell'istituzione Come ha visto qui nel studio con me c'è Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina anche lui voleva porle una domanda Buon lavoro rettore Volevo chiederle di rispondere a questi microfoni a quanto ieri le è stato chiesto dai rappresentanti degli studenti in un intervento piuttosto puntuale e preciso Sì, beh, i rappresentanti degli studenti hanno posto l'attenzione sulle problematiche che stiamo vivendo in questo momento soprattutto con riferimento alla pandemia Noi ovviamente abbiamo sofferto come molti la situazione attuale quindi con gli studenti lontani dalle aule e con la didattica prevalentemente a distanza abbiamo cercato di fare il possibile finché c'era concesso adesso se dopo Pasqua sarà possibile riprendere qualche attività in presenza lo faremo immediatamente c'è un tema anche di presenza comunque di studenti nelle aule studio di servizi aggiuntivi noi dobbiamo da un lato considerare molto attentamente tutti i vincoli e tutte le condizioni di sicurezza perché al primo posto c'è sempre la sicurezza in questo momento ma noi siamo vicini ai nostri studenti e cerchiamo di accompagnarli in questa fase cercando di offrire loro quello che possiamo delle attività che tradizionalmente l'università vive insieme ai propri studenti noi non vediamo l'ora che questa fase si possa in qualche modo superare progressivamente non ci sarà chiaramente un salto netto ma speriamo che per l'autunno dei miglioramenti significativi si possano registrare E il professor De Florian possiamo chiederle che stile adotterà? Ma io credo che uno stile non si inventi si costruisca piano piano partirò dallo stile che ho avuto finora per chi mi conosce che cerca di essere attento alle esigenze di tutti e soprattutto di ascoltare tutti un rettore prima di tutto deve ascoltare altrimenti non sarà mai in grado di cercare di fare sintesi fra le tante esigenze diverse che ci sono in una comunità così articolata come quella universitaria fra studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo siamo tanti con punti di vista diversi e con esigenze diverse quindi la prima cosa che io vorrei fare è ascoltare partendo da questo stile qua piano piano imparerò anch'io come muovermi in questo nuovo ruolo quindi lo stile crescerà col tempo Noi la ringraziamo molto per questi minuti che ci ha concesso ovviamente la invitiamo in studio qui appunto negli studi di mattino insieme nelle prossime settimane e la ringraziamo per essersi ritagliato questi pochi minuti ma così per volevamo noi darle il benvenuto e ovviamente per farla conoscere anche ai nostri telespettatori tu Diego per chiudere volevi ancora magari aggiungere qualcosa? No, mi unisco ai tuoi auguri di buon lavoro al rettore certo cominciare il primo aprile potrebbe sembrare uno scherzo ma ci facciamo una risata Grazie, grazie infinite e veramente buon lavoro a Flavio De Florian da oggi rettore dell'Università Trentina Grazie a voi, a presto, arrivederci A prestissimo, l'aspettiamo, ce l'ha promesso Io ringrazio, ringrazio Diego Andreatta direttore di Vita Trentina che è stato qui con me e ovviamente gli faccio i migliori auguri di buona Pasqua Sì, anch'io ne approfitto per rivolgerli a te ai colleghi di Trentino TV anche chi sta dietro le quinte e ci supporta ma soprattutto ai nostri ascoltatori del giovedì mattina augurando loro che sia una Pasqua serena con le loro, con le proprie famiglie e magari anche con qualche pagina del nostro settimanale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti